ben trovati è tempo tra ripulse ed entusiasmi vari di didattica a distanza ed è tempo soprattutto di rimodulare le nostre programmazioni sia dal punto di vista contenutistico togliendo tanto per citare dante il troppo il vano ma soprattutto rimodularle dal punto di vista delle competenze trasversali le famose soft skills sono delle competenze che a quanto pare si dice da più parti risultano fondamentali per l'inserimento nel mondo del lavoro la precisione l'equilibrio l'autonomia la capacità di porsi dei problemi e di risolverli ma soprattutto di gestire le informazioni del tempo e poi soprattutto la flessibilità e l'adattabilità in questo momento proprio queste competenze vanno rivalutate e valutate nei ragazzi allora io vi voglio proporre una griglia per la valutazione delle competenze trasversali in regime di didattica agile che è stata elaborata nella mia scuola una proposta modesta piccola naturalmente rivedibile che viene appunto dal liceo scientifico leonardo di giarra in provincia di catania ecco qui il la nostra griglia per la valutazione delle verifiche regime di didattica agile come vedete abbiamo suddiviso in aree la griglia abbiamo nell'area 1 la partecipazione la responsabilità nell'area 2 problem posing problem solving quindi la capacità di riporre e risolvere problemi nell'area 3 abbiamo forse l'aspetto più importante l'apertura mentale e la creatività per quanto riguarda l'area 1 la prima cosa che noi dobbiamo valutare nei ragazzi in questo momento di grande difficoltà è la puntualità la presenza e la motivazione alla didattica a distanza quindi la frequenza qualche ragazzo sicuramente in tutte le scuole si mostra latitante però il fatto che entri puntualmente riesca a partecipare a entrare in contatto e frequenti le lezioni a distanza è un elemento fondamentale poi abbiamo messo cogliere l'occasione del tempo a disposizione in questo contesto di grave emergenza considerandolo un'opportunità di crescita quindi il ragazzo tenace ragazzo che insiste ragazzo che c'è va premiato e va valutato per queste sue capacità abbiamo poi messo a margine naturalmente nella nella nel terzo riquadro i livelli parziale accettabile intermedio avanzato qui abbiamo fatto corrispondere un voto numerico poi vedremo dopo a che cosa corrispondono questi livelli per quanto riguarda l'area 2 la capacità di porre di risolvere problemi andremo a valutare la capacità di sapere interagire efficacemente con i docenti di sapere gestire le informazioni acquisite sapere lavorare in autonomia qualcosa che facevamo anche prima chiaramente in questo momento è ancora più potenziato questo aspetto e poi ecco sapere utilizzare uno stile comunicativo efficace per la risoluzione di problematicità e la loro condivisione nell'area 3 che dicevo forse per certi aspetti è la più interessante perché sono queste le capacità che vengono richieste nel mondo del lavoro l'apertura mentale la creatività e anche la capacità appunto di cooperazione ragazzi collocati in un momento di difficoltà devono dimostrare di sapere appunto collaborare in modo costruttivo e utilizzare criticamente consapevolmente le risorse digitali della didattica a distanza attraverso naturalmente la guida di noi docenti è evidente che in questo periodo si potenzieranno in tutte le scuole le metodologie laboratoriali e abbiamo poi chiaramente inserito i livelli e le la descrizione per i vari elementi parziale accettabile intermedio e avanzato per esempio nell'area della frequenza bisogno di frequenti sollecitazioni per effettuare l'accesso livello intermedio già è in grado di effettuare l'accesso in modo autonomo naturalmente parliamo di un liceo quindi i ragazzi grazie alla loro età possono riuscire anche da soli soprattutto per la grande pratica che hanno con le tecnologie a entrare in contatto in tempo al momento opportuno con i loro docenti per quanto riguarda le abilità per esempio a livello di parziale a difficoltà a comprendere le consegne ma dopo comprende le consegne disponibilità al feedback con il docente con i pari anche questo è un aspetto molto importante non sa formulare adeguatamente le richieste ma poi passiamo ai livelli superiori sa formulare richieste le informazioni pertinenti e adeguate e questa la nostra piccola proposta diciamo che vengono allargate le competenze trasversali soprattutto dobbiamo tenere conto della dell'adattabilità e della flessibilità certo se ben pensiamo la scuola italiana con dei programmi molto corposi con verifiche continue al punto che qualcuno l'ha definita un verifichice con interrogazioni frequenti sicuramente ha una struttura rigida che non permette di valorizzare adeguatamente le competenze trasversali anche se tutti noi docenti chiaramente tutte le nostre discipline afferiscono allo sviluppo di queste importanti abilità e allora se il mondo del lavoro richiede proprio queste soft skills la didattica a distanza probabilmente ci offrirà la possibilità di potenziarli ecco trasformiamo gli ostacoli in opportunità arrivederci a presto